Salve a tutti. In questo video vorrei fare una breve riflessione su una vecchia affermazione di Dino Tinelli. Egli diceva che gli fanno pena i bambini che vanno a scuola, quando li vede la mattina, carichi di libri, per essere indottrinati. In questi giorni io vedo molti ragazzi che si lamentano perché non vogliono tornare a scuola. Dopo anni che ho finito la scuola e l'università questi giovanissimi mi trasmettono un pochino della loro ansia. Li capisco perché sono stato adolescente anche io, comprendo che la scuola possa sembrare un'istituzione totale. Ma non sarà l'assenza di istruzione ad avere causato la teoria della terra piatta? O meglio, non sarà stata la pessima qualità della scuola ad esserne responsabile? Tinelli crede che a causa della scuola i bambini sono costretti a credere che la terra sia sferica. Ma anche se non andassimo a scuola comunque i mappamondi si vendono, si vedono, abbiamo internet, eccetera. La scuola se fosse così efficiente ci spiegherebbe bene, per filo e per segno, le ragioni scientifiche per credere che la terra sia sferica. E se così fosse nessuno verrebbero dubbi sulla forma della terra. O perlomeno se a qualcuno venisse qualche dubbio la formazione scolastica ci avrebbe dovuto togliere ogni dubbio. Invece quando si parla di terra piatta le persone hanno un sacco di dubbi che ci avrebbero dovuto risolvere alle scuole elementari. Cosa del tipo perché se la terra si muove noi non ci muoviamo insieme ad essa. Le stesse obiezioni che 500 o 600 anni fa facevano a Copernico e a Galileo, tutti questi anni di progresso non possono permettere questa ignoranza. Quindi, prima di criticare in toto la scuola, pensateci bene. Dovreste piuttosto lamentarvi del fatto che non vi insegnano nulla. O che non vi insegnano a pensare razionalmente, logicamente e scientificamente. E quindi non vi insegnano a farvi una vostra opinione sulle cose. Altrimenti, non lamentiamoci se abbiamo i terrapiattisti fra le scatole. Per il momento è tutto, alla prossima!